Senza voler essere presuntuoso, mi reputo una persona che si intende di turismo. Viaggio molto, amo viaggiare per l'Italia, per l'Europa, per il mondo, perché viaggiare consente di arricchire le proprie esperienze, le proprie conoscenze, di aprire i propri orizzonti mentali. Beh, sentendo le parole di Gianni Azzaro, vice sindaco di Taranto e assessore allo sviluppo economico e al turismo, resto davvero impressionato, resto senza parole, delusissimo, amareggiato. Alla BIT, Borsa Internazionale del Turismo di Milano, Gianni Azzaro ha usato termini, toni trionfalistici, esaltando i risultati turistici conseguiti, a suo dire, da Taranto, grazie all'amministrazione Melucci. Delle due luna, o Gianni Azzaro non è affatto in grado di comprendere, di leggere i dati, oppure Gianni Azzaro mente, sapendo di mentire, prende per i fondelli i cittadini. Siccome Gianni Azzaro è una persona che ha una intelligenza media e credo sappia leggere e comprendere i dati, vale la seconda ipotesi. Gianni Azzaro ha fatto il furbetto e si pone sulla stessa falsariga di Melucci e della sua band che ama mistificare la realtà pur di esaltare quei risultati assai miseri. Parliamo di numeri. Per quanto riguarda la crescita degli arrivi, parliamo di un 4%, parliamo del 2023 l'anno di riferimento, un più 4% rispetto al precedente anno 2022 e per quanto riguarda le presenze, ossia i pernottamenti, parliamo di 1 più 0,1. Dunque dati una crescita misera, assai insignificante, percentuali di crescita assai modeste, irrilevanti. Parliamo di dati pressoché sovrapponibili, identici, quelli tra il 2023 e quelli del 2023 rispetto al 2022. Miseri e poveri erano nel 2022, miseri e poveri sostanzialmente sono nel 2023. Ripeto, differenze minime, insignificanti e se consideriamo l'anno migliore, quello del 2019, qui si nota effettivamente la differenza e si nota per quanto riguarda gli arrivi un meno 5% e per quanto riguarda le presenze un meno 3%, ma l'amministrazione Melucci vuole raccontare favole e Gianni Azzaro vuole magnificare la capacità dell'amministrazione Melucci di valorizzare quelle risorse naturali e storiche di cui gode Taranto. Solo favole, chiacchiere, prese per i fondelli e ve l'ho dimostrato numeri alla mano. D'altronde quello che vi sto dicendo non lo dico solo io, ma basti considerare ciò che ha affermato Tullio Mancino, il direttore di Confcommercio Taranto, così come si sono lamentati sulla sua stessa falsariga gli operatori commerciali, gli operatori del settore ristorazione, del settore alberghiero che operano a Taranto e hanno parlato di una città, di un'amministrazione comunale che non ha saputo mai valorizzare a pieno le risorse, per esempio considerando il servizio di accoglienza in occasione delle crociere, un servizio di accoglienza scarso o addirittura inesistente. Quindi ovviamente le navi da crociera che arrivano a Taranto, che hanno una funzione, dovrebbero avere una funzione importantissima, invece proprio a causa di uno scarso, di un pressoché nullo servizio di accoglienza, vanificano le potenzialità dell'arrivo delle crociere a Taranto. Questi sono i numeri, numeri che parlano da soli. Certamente Taranto città avrebbe dovuto avere un ruolo di capofila, un effetto trainante in termini di crescita turistica, anche sui comuni della provincia e così non è stato, anzi forse il contrario. E allora i numeri sono evidenti, sono schiaccianti. Taranto e i Tarantini non hanno bisogno di un'amministrazione che sappia vendere per oro quella che è una infima chincaglieria. Non abbiamo bisogno di quest'ulteriore pressa per i fondelli di Gianni Azzaro. Meditate Tarantini, meditate!